... Pietro, prendi Atrambe e Pammo tesagro, aspettami là. Ma che sta facendo, muovete! ... 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 Al Flamino. Al Flamino, dove lo portare? Ci andiamo con tanti adesso, se no sta fuori dal commissario. Ci andiamo io e Pasquale, in base. Lascia stare, lascia stare. E ora me lascio questo. Non voglio un picci, lascio stare. Buongiorno a tutti e grazie. Bella roba che insegna a tuo figlio. Manca la vergogna. Sei fortunato che hai trovato cuvolino. Ma si era per me che ci portavo dentro. Vattene a casa che ti ha detto bene. Va, va, fila, fila. È meglio che te ne vai, va. Lo ringrazio a Dio, va. Manca. MENCA. ARRIVENTE. Grazie a tutti.